hardware wallet mobile wallet ed online wallet spesso utilizzano un seed per poter effettuare il ripristino del portafoglio stesso di solito il seed è composto da 12 o 24 parole che nella sequenza corretta possono essere utilizzate per ripristinare il tuo portafoglio se rompi o perdi il tuo device tuttavia tiene a mente che chiunque abbia accesso al tuo seed potrà anche rubare i tuoi bitcoin è importante quindi che archivi il seed nel modo più sicuro possibile e per far ciò esistono diverse opzioni scrivendolo su un pezzo di carta se la tua preoccupazione maggiore sono gli hacker puoi proteggerti semplicemente scrivendo il seed su un pezzo di carta non stamparlo e non conservarne copie su qualsiasi dispositivo elettronico in tuo possesso potresti optare di tenere il foglio di carta nello stesso posto dove detieni altri oggetti di valori o documenti sensibili come un compartimento segreto una cassaforte o una cassetta di sicurezza in una banca ciò che non è elettronico non può essere hackerato giusto ricorda però solamente di scrivere su una superficie piana e non sopra altri fogli di carta perché potrebbero essere utilizzati per scovare il tuo seed attraverso la tecnica del ricarico utilizzando un seed backup un seed backup è essenzialmente un dispositivo fisico in acciaio inox che permette di conservare in sicurezza un seed di 24 parole difendendolo da alluvioni incendi ossidazioni ed altre cause naturali il seed backup viene fornito con una serie di tessere contenenti lettere dell'alfabeto e tutto ciò che devi fare è inserire le prime quattro lettere di ogni parola e far scorrere il coperchio posto sopra grazie ad un seed backup puoi memorizzare fino a 96 caratteri di informazioni riservate in pochi minuti garantendo la sicurezza e la privacy dei tuoi dati alcuni esempi includono bill ford crypto steel e block stream metal inserendolo nel tuo password manager se la tua preoccupazione sono invece ladri governi o agenzie nazionali probabilmente un password manager è un posto più sicuro di casa tua o di una cassetta di sicurezza cui la polizia ed altri enti possono facilmente e legalmente ottenere l'accesso se hai familiarità pgp è un'ottima opzione per il backup sicuro di qualsiasi file dividendolo e distribuendolo potresti anche essere preoccupato circa non uno in particolare ma un mix di aggressori che potrebbero impossessarsi del tuo wallet e rubare i tuoi bitcoin ciò potrebbe includere ladri hacker il governo o addirittura cause naturali come incendi ed alluvioni per difenderti al meglio contro qualsiasi tipologia di attacco puoi astutamente distribuire il tuo seed tutto ciò che dovrai fare è dividere il tuo seed in tre parti uguali formate da quattro parole ciascuna ricorda che se il tuo seed ha 13 parole dovrai nel terzo foglio includere 5 parole anziché 4 i passaggi sono molto semplici 1 scrivi ogni blocco di quattro parole su due pezzi di carta differenti 2 posiziona i sei pezzi di carta in tre posizioni diverse in modo che se ogni posizione dovesse venire compromessa sarai ancora in grado di recuperare il seed completo tutto qui ricorda che se un attaccante dovesse risalire ad una delle tre posizioni non sarà comunque in grado di rubare i tuoi bitcoin non sarà comunque in grado di r�� ma ciaringà che sta succedendo